A me fa una bella impressione, non mi aspettavo di esserci, sono qui col piglio della curiosità, voglio vedere cosa succede, parole di Willy Peyote alla vigilia del suo debutto sul palco di piazza San Giovanni per l'edizione 2018 del concerto del primo maggio, a Roma. A ottobre è uscito il mio ultimo disco, poi è iniziato il tour, che non è ancora finito. Abbiamo fatto così tante cose che non mi sono nemmeno accorto di tutte, spiega il rapperto rinese, sul palco canterò due pezzi, compresa una strofa che ho scritto apposta per l'occasione. Ma i titoli non li dico, non faccio spoiler.